Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sedici dicembre, martedì, vediamo, anzi oggi no, non è martedì, ieri era martedì, oggi è mercoledì, insomma il mio dente mi ha allungato di un giorno la vita. Cosa è successo sui giornali oggi? Beh, i principali giornali italiani, sia Repubblica, sia Corriere della Sera, titolano sui vaccini, perché eh ma non c'è il commento che io avrei fatto, cioè in realtà nove paesi europei chiedono all'EMA, cioè l'Organizzazione Europea di Controllo del Farmaco, di velocizzare le sue riunioni e pare che l'EMA abbia deciso di fare, secondo il retroscena di oggi, di tutti i giornali, una riunione anticipata al ventinove dicembre, mi sembra una cosa così al ventuno, scusatemi, ehm il ventuno dicembre, cioè abbia anticipato una riunione straordinaria del ventuno dicembre, come se non si dovessero fare riunioni straordinarie nel momento straordinario in cui viviamo. Ma la cosa che mi diverte moltissimo su questi articoli dei giornali che dicono che Italia, in Germania, alcuni eh e gli altri sette paesi europei dicono fate in fretta a lei, l'EMA? Beh, mi diverte moltissimo perché noi fino a una settimana fa abbiamo preso per i fondelli gli inglesi che si sono fatti l'autorizzazione anticipata. Abbiamo detto ma come è possibile? Gli inglesi sono usciti dalla Brexit, fanno come gli pare a loro, non aspettano l'EMA? E poi dopo siamo noi che chiediamo al l'EMA di anticipare. Cioè vale tutto. Cioè questa Europa burocrata e che dilaziona tutto quanto vale sia per i vaccini, sia per tutte le nostre attività europee, sia per l'incapacità di gestire la politica estera. Ma è straordinaria. Oggi mi sembra che il Corriere della Sera si ricordi di diciotto pescatori italiani, lo fa in un bel pezzo e e bisogna ringraziare ogni tanto quando si parla di queste cose perché c'è l'assordante silenzio. Ma io dico in un paese normale, in un continente normale, nei confronti della Libia, si sarebbe mossa anche l'Europa posto all'incapacità ovviamente di Di Maio e di Conte di pensare a questo perché a tutt'altro pensano. È una presa per i fondelli. Ha ragione Kissinger che dice toc toc! Quando busso in Europa non so con chi devo parlare, secondo me il signore. Chi è il ministro degli esteri dell'Europa? Chi è presidente del Consiglio dell'Europa? Chi comanda in Europa? La Germania? L'Inghilterra? All'epoca? L'Italia? La Francia? Beh, insomma, l'Italia certamente no. Quindi mi diverte moltissimo questo fatto che i vaccini dovrebbero arrivare in anticipo e che noi stiamo litigando con l'EMA perché fa un po' di ritardo. Ma questo è nulla rispetto alla ridicola situazione italiana. Il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico è diviso. E vedete, io penso che il Comitato Tecnico Scientifico si possa pure dividere. I scienziati sono divisi, sono diversi scienziati da diverse storie, da diverse come si chiama discipline. Miozzo oggi dice voglio che ci sia più ehm ehm eh il coordinatore del CTS parla sempre col messaggero eh stretta più forte e maggiori controlli. Quindi insomma c'è un'anima dura del CTS. L'idea è che sia più dura il ventiquattro e venticinque e ma dal venticinque al trentuno ci siano sostanzialmente tutti i blocchi eh da zona rossa o arancione, altro che giallo. Quindi non solo durissima nei giorni di vacanza ma molto dura in quel periodo di vacanza e lì tutti i giornali ormai si spiegano quale è partito da una parte Boccia, Speranza e Franceschini dall'altra ehm diciamo i Renziani e probabilmente anche Conte. Quindi più aperturista Conte di ehm Speranza e compagnia cantanti. E e il giornale dice ostaggi di Conte e ha ragione perché nonostante Conte sia il più aperturista di questi qua ancora noi non sappiamo che cavolo succederà a Natale, che cosa potremmo fare a Natale nei giorni dopo Natale. Sappiamo cosa non possiamo fare ma potrebbero esserci tante cose in più che non possiamo fare. Nel momento in cui questi ci dicono vada andate a fare gli acquisti col cash pack ci dicono non assembratevi parola orrenda che vuol dire semplicemente non scendete in piazza. Cosa che è legittimo fare che gli italiani fanno con grandissima responsabilità. Non si tratta così chi lavora giustamente titola Becchis perché ragazzi la gente si deve anche organizzare i lavori e e Becchis è ancora più duro dice Ministri e Conte ma hanno mai lavorato un giorno in vita loro e anche io me lo chiedo perché nei servizi tutto sommato ci si può organizzare anche all'ultimo ma nel lavoro vero quelli che producono i ristoratori quelli che vanno fare ma anche nei servizi tutto sommato chi deve organizzare la propria vita per andare in ufficio non con gli autisti le scorte lo stipendio che ti arriva in ogni caso beh insomma ci si ci si mette molto vorrei segnalare che il responsabile il responsabile va bene dei presenti di quei baracchini che fanno il caffè di una grande marca alla stazione termini il responsabile di quella stazione una persona deliziosa fantastica che vedi come ti serve il caffè ieri ho detto mi dia un caffè freddo perché c'ho male al coso e lui mi ha dato il caffè freddo e me l'ha fatto cioè persona deliziosa questo signore che sta alla stazione termini che ha lavorato un mese sì un mese no un mese sì un mese no ed è il responsabile non uno diciamo è è è è il top beh insomma la cassa integrazione che gli era passata il negozio la grande catena di cui lui ha la fortuna di far parte non arrivavano a 700 euro al mese cioè questi sono matti questi sono matti non hanno capito dove cazzo stiamo andando il responsabile di uno dei negozi che peraltro sono stati aperti più degli altri ha preso la cassa integrazione peraltro ovviamente non pagata dallo stato ma anticipata dalla sua azienda di 650 euro al mese e questi pensano che noi possiamo continuare a lungo a fare trick e track tra speranza e quegli altri che si portano ma lo dico sinceramente 15 carte al mese per me va pure bene che vengano pagati farei una cosa farei vedere a loro cosa vuol dire per qualche tempo io glielo dico perché così avrebbero più la gravitas di quello che fanno una riduzione non a 650 euro ma anche del 50 per cento del loro stipendio da 15 a 7 mila e 500 euro al mese così le loro come possiamo dire scelte e decisioni forse sarebbero un pochino più ponderate nel rendersi conto che le loro decisioni uccidono ogni giorno decine di migliaia di imprese va bene va bene nel frattempo quindi più o meno su questa divisione nelle oggi forse se ne sapremo qualche cosa di più che anche questo vi dà il senso e poi c'è un'altra notizia incredibile cioè ieri Blangiardo stimatissimo presidente dell'istate lo dico senza ironia lo intervistato a quarta repubblica fa l'estime richiesto di quanti potrebbero essere i morti nel 2020 e il numero è 700 mila e tutti a drammatizzare non succedeva dal 1944 io vorrei segnalare a questi geni perché ovviamente le notizie si prendono solo in una misura che i 700 mila di quest'anno sono ovviamente molti di più in percentuale rispetto a 700 mila della guerra ma è evidente perché c'erano molti meno italiani all'epoca però il punto non è questo il punto è che è fantastico come loro comparano i 700 mila del 2020 con i 700 mila del 44 dicendo come in una guerra ma si dimenticano di dire che nel 2020 sono morte rispetto al 2019 52 53 mila persone in più secondo queste estime ma questo non è un dato eccezionale no perché nel 2015 rispetto all'anno precedente al 2014 sono morte 54 mila persone in più quindi nel 2015 sono l'incremento dei morti è stato superiore rispetto a quello che probabilmente ci sarà quest'anno e sapete perché perché c'è stato un picco di influenza allora io dico per quale diavolo di motivo non c'è un giornale uno che non faccia il paragone col 2015 e tutti lo fanno per il 44 perché dobbiamo dare e drammatizzare quello che avviene ci sono i morti sì c'è il virus sì ma perché nel 2015 quel virus tremendo che si chiama influenza che fece morire 54 mila persone in più rispetto all'anno precedente tutti zitti e muti pensate che in quell'epoca non c'erano le le terapie intensive occupate pensate che non c'erano le scelte pensavo che non si modifisse nell'rsa pensate che in quel periodo le cose sì erano meno drammatiche c'era un meno ehm diciamo pandemia globale ma morirono più persone l'incremento di persone più superiore a quello di quest'anno zitti e muti c'è scritto oggi sui giornali eh non è che me lo sto inventando però il paragone è quello della guerra perché ci terrorizza un po' di più e giustifica un po' di più le il clima no di questi giornali eh di dramma totale nel frattempo torna in videco ovviamente la scuola nonostante io abbia chiesto alla sottosegretaria presenza del consiglio la GEA in trasmissione ma lei è sicura che si riprende il 7 gennaio ma è evidente che questi non vogliono riaprire la scuola in 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 il 7 gennaio perché mi dovete spiegare la logica per cui noi non possiamo andare a fare lo shopping mentre si può si possa andare a scuola perché voi direte lo shopping non è necessario la scuola è necessaria io sono il primo a dire che è necessaria ma è del tutto evidente che questi non sanno esattamente che cosa fare non hanno organizzato i trasporti non hanno organizzato ehm come se la sanità non hanno organizzato nulla speriamo che abbiano organizzato i vaccini certo affidate ad Arcuria del commissario avete presente Arcuri quello che ha un ego talmente gonfio che sembra eh il come si chiama il commensale della di Monty Python no quello che si mangia la mentina nel frattempo eh le scuole quindi dicono praticamente tutti quanti il governo frena il messaggero sulla riapertura delle scuole ovviamente in in presenza il 7 gennaio ma la cosa più divertente è che in tutto questo casino c'è il vice ministro della sanità Sileri che da me e anche sui giornali oggi un'intervista lunghissima alla verità gliela fa Senaldi un'intervista lunghissima in cui Sileri dice il segretario generale del ministero della sanità se ne deve andare via vuole licenziare Sileri invece e per quale motivo? Perché semplicemente ha detto una serie di bugie incredibili sul piano pandemico non si presenta al CTS cioè sostanzialmente il segretario generale del ministero della sanità detto dal vice ministro della sanità chirurgo ed eletto del Movimento 5 Stelle sostanzialmente è uno dei più inutili burocrati che ci siano oggi in Italia insomma non è male io non so chi abbia ragione se è il segretario di Sileri o questo segretario generale della sanità che si chiama Ruocco fatto sta che questa roba qua sul piano pandemico che Ruocco non ha fatto certo non è colpa di Babbo Natale perché una serie di una cosa giusta sicuramente dice speranza e Dio cambieremo Ruocco rimane sempre là e quindi certi problemi che arrivano al ministero della sanità derivano dal passato crisi di governo sì perché nel frattempo c'è la crisi di governo e siamo tutti appesi all'incontro tra Renzi e Conte e Renzi che ha fatto come suo classico esempio prima fa la crisi di governo poi si fa convocare e poi nel giorno della convocazione dice non posso perché la Belanova ministro dell'agricoltura ieri era a Bruxelles a parlare di una cosa importante cioè la questione dei semafori quella minchiata europea contro il cibo italiano quindi fa bene a difendere l'Italia la Belanova ma il punto fondamentale è il solito Renzi è il come possiamo dire è un è una persona di un'ineaffidabilità lo dico su conoscendolo da vicino totale ma voglio dire politicamente anche forse molto efficace è molto divertente il la foto e il montaggio del fatto che ironizzando quella serie di Netflix fa the clown mettendo Renzi e la Belanova io non penso né che Renzi né che la Belanova siano di un clown e tra l'altro il pezzo di travaglio contro la Belanova definita vispa Teresa mi sembra uno dei soliti pezzi di travaglio insopportabili perché la Belanova non riesco a capire che problema ci abbia se vada in Europa dove deve andare il punto ovviamente è sempre politico e cioè che Renzi tira la corda finché non cerca di spezzarla ehm su questo Giorgetti in realtà oggi intervistato l'uomo forte l'anima grigia eh non era della Lega cioè il Gianni Letta di Salvini dice che il governo cadrà presto e che la nuova posizione di Salvini aperturista è una posizione intelligente che potrà essere utile per far appunto cadere il governo. Zingarette dice un po' meno banalità oggi al foglio non vedo altri governi oltre a questo che vuol dire che se cade questo governo si va a elezioni ma voi ci credete? Io poco. In MF oggi il giornale finanziario fa un titolo completamente diverso dagli altri cioè dice un cenone da cinquecentocinquanta posti Eni ehm scusatevi Saipem Rai eh Enel Green Power CDP poi chi altro cita? Ve li metto le ferrovie dello Stato eh insomma ci sono un sacco di poltrone che dovranno essere innevate in primavera e sostiene che Renzi e gli altri su queste stiano discutendo e forse bisticciando e nel frattempo niente IMU e sarebbe una cosa sacrosanta per quegli alberghi e per quelle aziende che hanno perso molto del loro giro d'affare 2020 questo è il titolo del messaggero eh in realtà ehm la Cassazione ha deciso che i furbetti non possono usare la doppia casa per fare l'esenzione del IMU invece il titolo Italia Oggi cosa succedeva? Io sono sposato con mia moglie io sono residente in questa casa mia moglie in un'altra così tutti e due risultano prima a casa e non si parla e non si paga l'IMU ehm diciamo che ci sono due o tre cose ancora divertenti beh una di economia meno divertente cioè la banca centrale europea ha finalmente permesso alle banche di dare i loro dividendi però ha messo una serie di paletti potranno essere 15 20 per cento soltanto di quello dell'utile e quindi payout inferiori e dovranno essere ridotti rispetto al capitale della azienda io penso che questi paletti da BCE siano straordinariamente una minchiata Onado oggi sul sole 24 ore ci spiega che comunque è un passo avanti permetterà alle aziende di remunerare un pochino i propri risparmiatori ma secondo me quando la banca centrale europea pensa di fare il mestiere del banchiere eh non solo gli ha messo le regole non solo gli ha messo i criteri eccetera mogli decide anche quanto devono distribuire gli utili è una follia i banchieri ovviamente non avranno mai coraggio di dirlo perché sono venuti così dal regolatore europeo Messina oggi intervistato dalla stampa da Massimo Giannini più grande banchiere italiano dice che questo governo è meglio che non cada perché ora non si deve andare in crisi è il tipico atteggiamento di tutti i banchieri cioè il conservatorismo più totale ma dice attenzione perché il recovery fund è uno di quei treni che non passa più di una volta ultimi due pezzi uno eh riguarda Veneziani la legionella d'onore straordinaria da parte di Augas che ha detto che lui rinunciava alla legione d'onore è successo un casino perché tutti quelli che l'hanno presa da Prodi a Beltroni adesso se non rinunziano alla legione d'onore sono dei mascalzoni per il fatto reggeni ma dice Veneziani ragazzi fermi tutti toc toc dice Veneziani ma guardate che gli stati da che mondo in mondo devono fare trattative anche con i dittatori non fate tanto le anime belle sostiene Veneziani infine la grande storia che ci racconta il fatto di questa follia gender dell'Inghilterra in cui dalla Rowling quella che si è inventata Harry Potter al professor Bunnington eh sono stati sostanzialmente bannati dall'università per aver detto una cosa semplice dal loro punto di vista e cioè che un trans i trans non sono vere donne allora io non so se siano vere donne false donne veri uomini falsi uomini non mi interessa ma quello che so e lo sa anche il foglio lo dice magnificamente che si potrà avere la possibilità di dire una cosa di questo tipo se siamo liberi di poterlo dire nel paese che accolse Voltaire cacciato da Luigi quindici si può fare una cosa di questo tipo io penso di sì l'Inghilterra deve essersi veramente rintronata soprattutto quella dei college e del politicamente corretto direi che per oggi è tutto vi do appunto come sempre vado su poi domani ciao